Giovedì 22 aprile in Puglia sono stati registrati 12.472 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.895 casi positivi, 730 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 203 nella provincia Bat, 347 in provincia di Foggia, 209 in provincia di Lecce, 271 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 35 decessi, di cui 7 in provincia di Foggia. A Lucera sono 543 attualmente i contagiati, 49.422 sono i casi attualmente positivi di Covid-19 in Puglia. Continua la campagna vaccinale in Puglia e fino al 3 maggio possono aderire alla vaccinazione le persone nate tra il 1 gennaio del 1960 e il 31 dicembre del 1961. Non occorre prenotare, basta confermare l'appuntamento già pianificato dalla regione sulla base della data di nascita e del comune di residenza, registrati in anagrafe sanitaria. Con questa fascia d'età possono aderire tutte le persone fra i 69 e i 60 anni, che vengono vaccinate in ordine di anzianità e sulla base della disponibilità dei vaccini. È possibile conoscere e confermare, date il luogo del proprio appuntamento attraverso la piattaforma La Puglia di Vaccina o, grazie al numero verde 871 39 31, o presso le farmacie accreditate al servizio Pharmacup. Con la partecipazione al programma dell'abitare sostenibile e solidale della regione Puglia, il comune di Foggio ha candidato un integrato progetto per la realizzazione di alloggi parcheggio ZEB e di complementari opere di urbanizzazione relative alla realizzazione di una pista ciclabile velo-stazione alla via Lago Nigro e di completamento della pista ciclabile esistente nel comparto Biccari. Con le determinazioni del Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana della sezione Politiche Abitative, la Regione Puglia ha approvato la graduatoria relativa alle istanze ammissibili che riguardano la linea di intervento numero 1 e la linea di intervento numero 2 riferite alle realizzazioni di alloggi e di urbanizzazioni e ha finanziato i due interventi. È da riconoscere il continuativo impegno tra Comune, Regione e Arca, ha dichiarato il sindaco di Foggia Landella, per affrontare lo spinoso problema dell'emergenza abitativa. E nel ringraziare l'amministratore e l'avvocato Pascarella, non si può non riconoscere alla Regione la lungimiranza di un bando che oltre all'obiettivo di contribuire alla risoluzione dell'emergenza puntava a risolverla con soluzioni di qualità. Raggiunta l'intesa tra INAIL sindacati e rappresentanti di categoria per l'aggiornamento del protocollo per la sicurezza e il contrasto al Covid. Anche ATAF Spa si organizza per vaccinare i lavoratori che lo vorranno. A partire dal mese di maggio, infatti compatibilmente con la disponibilità delle dosi, sarà possibile, su base volontaria, procedere alla vaccinazione per il Covid-19 all'interno della stessa azienda. I dipendenti che intendano sottoporsi alla vaccinazione ne daranno comunicazione ad ATAF. Le aziende vaccineranno i lavoratori a prescindere dall'età e secondo la normativa indirizzeranno eventuali soggetti a rischio alle ASL in modo che possano essere vaccinati in ambiente protetto. Tutti gli oneri per la vaccinazione anti-Covid in azienda sono a carico del datore di lavoro o delle associazioni di categoria di riferimento. Il canale aziendale sarà parallelo e non alternativo alla rete di vaccinazione ordinaria. Consentirà di andare più spediti nella campagna vaccinale e non si tradurrà in norme vincolanti. Si è tenuta sulla pagina Facebook di Textus Edizioni la presentazione del volume Il lungo viaggio delle onde gravitazionali di Paola Catapano. La giornalista e divulgatrice scientifica originaria di Lucera esperta nella comunicazione al CERN di Ginevra ha raccolto nel suo libro una serie di informazioni e di interviste a premi Nobel e a scienziati meno noti per ripercorrere la scoperta delle onde gravitazionali sulla quale gli esperti lavoravano da 100 anni. Il libro fa parte della collana La farfalla di Lorenz e la prefazione è stata curata da Eugenio Coccia del Gran Sasso Science Institute che durante la presentazione ha spiegato aspetti interessanti della scoperta a partire dagli strumenti e dai metodi con cui è stato possibile rilevare le onde gravitazionali. La presentazione è stata resa possibile grazie al Rotary Club di Pescara ed è stata realizzata online in attesa degli appuntamenti in programma a Pescara e a Lucera appena termineranno le restrizioni anti-Covid. Con un linguaggio semplice e chiaro Paola Catapano rende argomenti scientifici alla portata di tutti. L'evento moderato da Antonella Del Rosso del CERN è stata occasione per affrontare temi che hanno aperto una finestra sulla straordinarietà dell'universo e sull'importanza della scienza e della ricerca fornendo spunti e informazioni che hanno interessato utenti e curiosi. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.